Musica Nell'ambito di un'attività investigativa svolta dalla locale procura della Repubblica è stato disposto dal GIP presso il Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella su richiesta del sostituto procuratore Simonetta Ceccarelli un sequestro preventivo per una somma complessiva di 470.000 euro Il provvedimento cautelare eseguito dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza giunge al termine di indagini delegate dalla procura della Repubblica dell'Aquila al locale corpo di polizia municipale Le investigazioni svolte hanno riguardato un grave episodio di indebida percezione di un contributo pari a 470.000 euro circa corrisposto dal Comune dell'Aquila ad un soggetto privato che aveva falsamente attestato di averne diritto per la ricostruzione e ristrutturazione della propria abitazione principale gravemente lesionata dal sisma del 2009 Gli investigatori, a seguito di articolate indagini di polizia giudiziaria, hanno accertato che il richiedente del contributo attraverso false autocertificazioni aveva attestato che l'immobile beneficiario della suddetta misura di sostegno pubblico era adibito ad abitazione principale o stabile dimora mentre in realtà, così come scoperto a seguito delle indagini, la dimora abituare dell'istante all'epoca del sisma si trovava a Milano Gli accertamenti consentivano tra l'altro di accertare che l'indagato non solo non aveva mai dimorato presso l'abitazione per la quale era stato richiesto il contributo, ma l'aveva addirittura concessa in locazione a terzi I sequestri sono scattati a seguito delle indagini di natura patrimoniale svolte dai militari della Guardia di Finanza che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili a responsabile del reato accertato Arginare i fenomeni mafiosi o di criminalità organizzata nella ricostruzione post-terremoto è uno degli obiettivi che perseguirà il nuovo dirigente della squadra mobile della questura dell'Aquila Gennaro Capasso già a capo della mobile di Teramo e insediatosi lo scorso 20 settembre Capasso è stato presentato alla stampa dal questore Alfonso Terribile e subentra a Maurilio Grasso trasferito alla squadra mobile di Roma Il mio predecessore, ha sottolineato Capasso, ha fatto un lavoro brillante e intendo andare avanti sulle orme da lui tracciate In questura ho trovato un ottimo clima, ha concluso Capasso, una collaborazione percepita da subito Il nuovo dirigente della mobile ha comunque annunciato che riserverà massima attenzione ai reati predatori poiché sono quelli che colpiscono maggiormente i cittadini Capasso, che ha una formazione di polizia giudiziaria maturata prima a Brescia e poi a Teramo dove è rimasto per 15 anni, ricoprendo vari ruoli, ha affermato di avere un buon rapporto anche con i magistrati della procura aquilana proprio per il suo ruolo che svolgeva nella questura di Teramo Proseguono i movimenti del centrodestra in vista delle elezioni amministrative 2017 Dopo l'ufficializzazione della corsa a primo cittadino del salviniano Luigi Teramo che ha ricevuto l'investitura direttamente dal leader del partito a Pontida spunto un altro nome che concorrerà per la poltrona di sindaco È quello di Pierluigi Biondi, dipendente del comune di Ocre e per oltre 10 anni sindaco del comune di Villa Sant'Angelo che ha guidato nei drammatici anni del posto terremoto Biondi, per ora lanciato solo da discrezioni di stampa ma che entro fine mesi potrebbe ufficializzare la discesa in campo sarebbe a capo di una serie di liste civiche afferenti al centrodestra ma che non fanno capo ai partiti canonici dello schialamento dai Forza Italia all'Udc a NCD Possibile un'adesione al progetto politico da dell'ex primo cittadino di Villa di forze più tradizionali come Fratelli d'Italia e non è escluso l'appoggio anche di movimenti di estrema più radicale come Casa Pound, anche se la situazione è in continuo di venire Una fluidità che potrebbe portare, per esempio, a contatti con i partiti di opposizione in comune per individuare un percorso per una candidatura unitaria uno scenario, peraltro, mai escluso neanche dal Salvignano d'Eramo L'obiettivo finale è quello di evitare le frammentazioni e le divisioni che hanno caratterizzato l'ultima campagna elettorale nel centrodestra consegnando, di fatto, una vittoria agevole a Massimo Cialente per il suo mandato bis Il tutto mentre nel centrosinistra è ancora forte l'eco delle polemiche tutte interne tra il gruppo dirigente del Partito Democratico ed il presidente del Consiglio Benedetti Quasi scontata, a meno di clamorosi stravolgimenti dell'ultimo minuto la candidatura di Giovanni Lolli, attuale vicepresidente della Giunta regionale mentre è ancora di chiarire se verranno effettuate le primarie di partito o di coalizione Situazione ancora più incerta nel Movimento 5 Stelle dove da tempo in atto uno scontro durissimo tra una parte della base grillina ed il gruppo afferente alla senatrice Enza Blundo I nomi che circolano dall'ex dipendente regionale Antonio Perrotti all'avvocato Fausto Corti, ex Italia Nostra non sembrano accontentare tutti ed è prevedibile, anche in questo caso una guerra durissima che dovrà cercare di smorsare il gruppo dirigente regionale Pentastellato Sul piatto delle candidature poi ballano altri nomi come quello dell'attuale vice sindaco Nicola Trifuoggi che non ha mai nascosto l'ambizione di correre per la fascia tricolore o quello degli attuali consiglieri civici che potrebbero tentare una nuova avventura dopo quella che nel 2012 li portò in Consiglio Comunale Un mosaico tutto da definire con qualche tastello che è stato già posto e con altri che verranno posizionati nelle prossime settimane perché la primavera 2017, politicamente parlando, è dietro l'angolo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.